Musica Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche. In apertura la pesca perché la proliferazione di mucillaggi ne mette a rischio le attività economiche della Riviera delle Palme. Il comune di San Benedetto del Tronto ha inviato una lettera all'onorevole Lucia Albano per proporre una modifica al periodo di fermo pesca. Una richiesta avanzata alcuni giorni fa dalla marineria sanbenedettese. Le attività di pesca nel tratto adriatico da San Benedetto a Bari devono fermarsi dal 16 agosto al 29 settembre. La proposta è di spostare le ultime due settimane del fermo al periodo dal 7 al 21 luglio, quando la fioritura al Gale inizia a diminuire. Nella missiva i pescatori riveraschi hanno segnalato al comune il problema della mucillaggine, sottolineando come la proliferazione di alghe stia danneggiando i componenti meccanici dei motori delle imbarcazioni e appesantendo le reti rendendole difficili da gestire. Nei giorni scorsi le mucillaggine hanno causato diversi problemi anche agli stabilimenti balneari, ma le recenti mareggiate hanno migliorato le condizioni della battigia. La nuova società di calcio SSC Ancona è pronta a partire un mese dopo la mancata iscrizione in Lega Pro della vecchia US Ancona per il mancato pagamento degli stipendi dal marzo scorso. Ieri a Roma il presidente protempore del nuovo club Gianluca Brilli, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, ha depositato nei termini gli assegni per complessivi 400.000 euro e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato. Di serie di oggi il Consiglio federale della FIGC fa sapere il comune, proseguirà l'iter accogliendo la richiesta di iscrizione della nuova società calcistica. Dal momento della ratifica la nuova società avrà tempo fino all'11 di luglio per espletare tutte le formalità, compreso il deposito della fideiussione per l'iscrizione al prossimo campionato 2024-2025. Procedono intanto i lavori sulla linea Civitanova-Alba-Cina, tra le operazioni più importanti l'elettrificazione dell'intera linea. Vediamo. Procedendo senza sosta i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sui 90 chilometri di linea Civitanova-Marche-Alba-Cina, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutturale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Con la sospensione della circolazione ferroviaria iniziata il 10 giugno e che terminerà il 7 settembre, circa 150 tecnici per un importo di oltre 170 milioni di euro permetteranno alla tratta uno sviluppo prestazionale in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio e di incrementare la capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio. La parte principale dei lavori sono l'elettrificazione dell'intera linea che prevede la realizzazione di 3.500 blocchi di fondazione. Poi abbiamo l'RTMS, che è un sistema tecnologico molto avanzato in uso sull'alta velocità che consente la regolazione della circolazione ferroviaria. E poi abbiamo lo Slab Track, che è un nuovo sistema di sostituzione della massicciata ferroviaria con dei blocchi in calcestruzzo armato e questo consente di ridurre tantissimo la manutenzione necessaria sui binari. Come vedete dalle immagini, tanti lavori alla stazione di Macerata, dal rinnovo del binario nelle gallerie Convitto e Cincinelli, alla manutenzione straordinaria sui binari e scambi, dall'allargamento del sottovia carrabile nei pressi di Via Marche, alla riqualificazione di tutti gli accessi. La riqualificazione del fabbricato della stazione, l'innalzamento dei marciapiedi al nuovo standard H55, che consente un accesso al piano del treno assolutamente confortevole. Verranno riqualificati gli ascensori ed il sottopasso, il tutto per rendere proprio l'accessibilità massima ai nostri treni e alla nostra stazione. Dunque una vera e propria corsa contro il tempo per evitare disagi a settembre con l'aria apertura ufficiale della tratta. In questa fase stiamo concentrando tutte le attività che sono impattanti per l'esercizio ferroviario. I lavori non termineranno il 7 settembre, andranno avanti con altra modalità. Ricordiamo, chiudendo, che il servizio per i viaggiatori è garantito grazie a bus dedicati, messi a disposizione da Trenitalia e accessibili con un regolare biglietto ferroviario. Sì, le imprese ferroviarie che utilizzano la nostra linea ferroviaria hanno messo su un servizio sostitutivo. Anche il fatto che sia stato scelto il periodo estivo è perché è stato valutato che è quello meno impattante per i nostri utenti. Malamovida, questa mattina la prefettura di Fermo è stato sottoscritto un protocollo tra il prefetto, le forze dell'ordine, gli amministratori dei sei comuni della costa fermana e le associazioni di categoria, oltre che gli operatori balneari, proprio per contrastare questo fenomeno e garantire un intrattenimento sicuro nei locali. La costa fermana, infatti, da settimane è bersagliata da furti e rapine. A metà giugno sono stati esplosi anche alcuni colpi di pistola sul lungomare di Porto San Giorgio. Già qui, appunto, la necessità e la sottoscrizione di questo protocollo per garantire maggiore sicurezza. La nuova era della BCC, Banca del Piceno. Vediamo. Inizia una nuova era per la BCC, Banca del Piceno, con il nuovo consiglio di amministrazione, il cui presidente è Sandro Donati. Nominato direttore generale Gabriele Illuminati, classe 1978, dipendente della banca da 20 anni. L'istituto conferma la sua vocazione di banca del territorio, con oltre 6.000 soci e che fa parte delle 115 BCC che operano sul territorio nazionale. La Banca del Piceno, con 28 filiali, copre il territorio da Civita Nova Marche a Giulianova, tra Marche e Abruzzo, in 78 comuni, con presidi nell'entroterra che diventano fondamentali nei paesi del post-sisma e a rischio spopolamento. La banca è anche un presidio sul territorio, specie in quei comuni che sono a rischio spopolamento dell'entroterra? Eh sì, anche questo qui cerchiamo, anche molte volte fatichiamo con le spese a dover restare in quei territori, ma lo facciamo per poter anche mantenere il territorio vivo e dargli anche un servizio. La Banca del Piceno è l'unica BCC del territorio che sostiene la ricostruzione, quindi all'interno di un accordo stipulato a livello nazionale, noi di intesa con la Regione provvediamo a derogare i finanziamenti per la ricostruzione di quei soggetti, clienti, che hanno purtroppo avuto un momento difficile. È un'operazione importante, nel 2023 abbiamo regolato con questa finalità oltre 26 milioni di euro, oggi ammontiamo complessivamente a oltre 100 milioni il credito derogato con tale finalità. Lo spopolamento è un tema purtroppo ricorrente, continuiamo a presidiare i territori dell'interno che sono stati colpiti da eventi nefasti e non ultimo anche quella del normale flusso migratorio al fine di assecondare sia quelle fasce un po' più deboli della popolazione, possiamo pensare alle persone più mature, ma anche ai giovani che decidono, sulla base dei propri progetti o creare una famiglia, decidono di rimanere nei comuni dell'interno. Lì continuiamo ad esserci. Dal 3 all'11 agosto torna Masca Marche, 12 i comuni maceratesi coinvolti. I 12 comuni dell'Unione Montana Potenza, Isino e Musone dal 3 all'11 agosto ospiteranno la terza edizione di Masca Marche, il festival teatrale sulla commedia dell'arte organizzato dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti, che offrirà a cittadini e turisti spettacoli gratuiti insieme ad arte, turismo, cultura ed enogastronomia. La terza edizione in qualche modo si è migliorata anche dal punto di vista della qualità, ma sulla qualità si può sempre migliorare, ma anche peggiorare. Il miglioramento sta nel fatto che siamo riusciti anche a portare qui sul territorio dell'Unione, grazie al direttore artistico Francesco Facciolli, che con questi artisti ha comunque una sorta di frequentazione, siamo riusciti a portare dei lavori veramente eccellenti. E per quanto riguarda i bambini, i bambini e grandi, ma di solito si pensa ai bambini, quando si pensa ai burattini, ebbene sicuramente abbiamo delle compagnie che qua non si vedono quasi mai. E ora ascoltiamo il direttore artistico Facciolli, che ci fa qualche nome delle compagnie presenti al festival. Avremo l'apertura con Pantakin di Venezia, che è una compagnia che veramente porta la commedia dell'arte italiana in tutto il mondo. Sono gli organizzatori, tra l'altro, del Carnevale di Venezia. Poi abbiamo il Teatro Stappato, che è una compagnia franco-spagnola. Ci sarà ancora una volta la presenza di Claudia Contina Arlecchino. Quindi un programma molto ricco e, tra le tante cose che siamo riusciti a realizzare, porteremo, credo, per la prima volta in questa zona l'opera dei Pupi Siciliana. Alla conferenza stampa di presentazione tanti sindaci e gli assessori dei dodici comuni ne abbiamo ascoltati due. È un connubio azzeccato tra ricettività, turismo e arte. Dodici comuni che si sono uniti, ancora una volta, tutti insieme, per fare questo giro di rappresentazioni, di manifestazioni culturali, teatro, tutti insieme e tutti uniti. Beh, questo direi che è veramente il gol di Masca Marche. E stasera si balla l'Ulisse Fest con la Super Taranta. La magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale arriva sul palco dell'Ulisse Fest ad Ancona per una grande serata di festa collettiva. È la Super Taranta, diretta da Antonio Castrignano e Mauro Durante, che riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina. Racconteremo un movimento che parte dal basso, attraverso le proprie storie individuali e attraverso la passione che ci accomuna, che è quella della musica salentina. Da sempre ognuno di noi è impegnato, sia nella ricerca che nella riproposizione, di canti che vengono dal passato e che raccontano i valori dell'umanità. Lo fanno attraverso la musica, le canzoni e soprattutto un ritmo ancestrale, che è quello del tarantismo. Dalla Puglia al mondo. Questa storica arte musicale pugliese negli ultimi anni ha lasciato il segno e non solo in Italia. Siamo stati negli Stati Uniti, in Nord America, in Sud America, negli Emirati, in Asia, in Oceania, in Africa. Questa è una musica che veramente sta raggiungendo, nell'occasione appunto, dei festival di musiche del mondo, ogni luogo. E c'è una cosa che può dimostrare questo fatto, che è una musica locale, che viene cantata in dialetto salentino o addirittura in una minoranza linguistica che è quella del grico. Si riesce comunque ad arrivare a parlare a persone di ogni etnia, età, lingua, classe sociale. Significa che qui c'è il potere di trascendere questi confini, le barriere linguistiche. E in un certo senso anche le barriere temporali, visto che alcuni dei canti che noi portiamo in giro sono vecchi di secoli. E perché quando si cantano le emozioni universali e temporali dell'uomo, l'amore, la sofferenza, la fatica e la spiritualità, allora si può veramente andare in connessione con una sfera che è ancora più intima, interiore e comune a tutte le persone del mondo. L'appuntamento con la Super Taranta è per il prossimo 5 luglio nel nuovo spazio dell'Arena Sul Mare al Porto Antico di Ancona, a partire dalle 22.30. Ci fermiamo, questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.